Roma-Verona termina 2-1, la Roma vince contro il Verona oggi 20 gennaio 2024 all'Olimpico. E' stata la prima partita per il buon De Rossi come allenatore come CT. La Roma entra in maniera preponderante nel gioco riuscendo a trovare la negativa vittoria degna. Questo è il nome più bello che penso rappresenta la partita in questione. 2-1 termina, ricorda di Luca Alcumbo nel primo tempo e sempre nel primo tempo Lorenzo Pellegrini. La risposta del Verona arriva nel secondo tempo grazie a Michael Forlorsho. Le statistiche sono positivissime della Roma, più possesso di pala, più passaggi e una precisione levemente più elevata rispetto al Verona. Complimenti dunque alla Roma di De Rossi, De Rossi sta iniziando molto bene, questa partita è andata molto bene e la Roma sta trovando l'attimo giusto. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti e una buona sera.